L'interfono Fodsport FX7 è davvero così di qualità come dicono? Può avere tutta questa tecnologia concentrata in un prezzo almeno la metà dei concorrenti più blasonati? Risponde veramente alle aspettative di noi motociclisti fin troppo esigenti? Abbiamo testato Fodsport FX7, l'interfono al momento top di gamma per la ditta Fodsport, per una settimana più un viaggio nel weekend. Beh, questo aggeggino ha veramente risposto a tutte queste domande e a me personalmente ha soddisfatto tantissimo. Io sono Daniele, benvenuti su Motocicletta Team, oggi parliamo del nuovo interfono FX7 Fodsport. Arriviamo direttamente al punto della questione, questo interfono mi ha pienamente soddisfatto e voi direte, ovviamente lo stai dicendo perché lo stai presentando e quindi devi per forza parlare bene. Chi mi segue sa che quando faccio queste recensioni, se c'è un punto negativo da dire, lo dico. Lo dirò anche in questo caso se ho trovato punti negativi su questo interfono. Innanzitutto abbiamo fatto un test di una settimana, scartandolo, nel vecchio video c'è l'unboxing, scartandolo e attaccandolo direttamente sul casco senza aver mai fatto una ricarica. Quindi con la ricarica residua originale, mi riportava sul display il 100% e quindi ho detto ok, non lo ricarico più. Ho fatto una settimana di test, usandolo per i corsi, usandolo per le commissioni e poi un viaggio nel Cilento, una moto tendata bellissima, tenendolo acceso tutto il giorno, dalla mattina fino a sera, in costante comunicazione. La notte non l'ho caricato, mi riportava il 60%. Non ho voluto ricaricarlo proprio per vedere se questo 60% era effettivamente reale. Il mattino seguente l'ho riacceso e mi riportava 20%. Ora, di preciso, io non so cosa sia successo, mi sono fatto un'idea. Siccome la corrente residua viene letta dal Bluetooth, probabilmente deve esserci un minimo di tempo perché questa corrente venga letta effettivamente per quello che è. Quindi probabilmente può esserci un piccolo ritardo da parte del Bluetooth, potrebbe esserci non so che cosa, magari qualcuno di voi è più esperto di me e mi saprà dire, magari sotto nei commenti, come mai il giorno prima segnava il 60%, il mattino dopo a interfono spento, quindi durante la notte, segnava il 20%. Ma ciò nonostante, è durato comunque per oltre 450 chilometri. Dalle 8 del mattino... Ho appena tagliato il prato e si sta arrotolando, si sta facendo un casino. Provato dalle 8 del mattino fino circa alle 9 di sera, quindi tutto il giorno acceso, durante la sosta pranzo, durante le varie fermate, l'ho tenuto acceso, non sono stato a spegnerlo in continuazione e probabilmente quel 20% che mi riportava la mattina non era veritiero, era probabilmente veramente il 60%. Detto questo, la batteria mi ha soddisfatto in pieno. La settimana prima l'ho provato anche con la musica accesa e questo weekend è costantemente in comunicazione. Ora, passiamo ai punti virtuosi di questo FODSport. È stato aggiornato praticamente in tutto. Mi sono scritto tutto quello che hanno aggiornato, perché mi dimentico. Ha un doppio chip Bluetooth. Questo serve per gestire musica e interfono separatamente. Noi non dobbiamo fare nulla, lo colleghiamo e basta, fa tutto lui. Si può collegare fino a 10 motociclisti. Quello precedente si collegava fino a 8. Il Bluetooth è nuovo, tecnologia 5.4. Ha un audio multitasking. Questa domanda mi è stata fatta più volte nell'altro video, per l'altro interfono. Cioè, cosa vuol dire questo audio multitasking? La domanda era, ma io posso ascoltare la musica e contemporaneamente sentire la voce del navigatore? Sì, questo qui lo può fare. Quindi possiamo ascoltare la musica e contemporaneamente sentire le note del nostro navigatore. Ha tre modalità di abbinamento. La modalità di coppia, una modalità rapida. Dalla modalità amicizia e la modalità gruppo. Questa modalità gruppo ha una funzione particolare. Una volta collegato il gruppo, succede che tra di loro gli interfono fanno da ponte. Nel nostro viaggio durante la MTA abbiamo avuto un problema. Ogni tanto, quando il gruppo si allontanava molto, quando avevamo un tornante di mezzo, quindi la montagna, effettivamente, lì il segnale non può passare. Ogni tanto si sganciava e perdavamo qualcuno. Quindi non si ragganciava con tutti quanti. Questo sistema, questo nuovo sistema della modalità gruppo, ha risolto questo problema. Quindi, se dovesse sganciarsi qualcuno, oppure se durante il nostro viaggio ci salutiamo, per esempio in autostrada qualcuno esce e se ne va, non abbiamo questa preoccupazione di poi non ricollegarci tutti quanti. Questo ponte viene ripristinato in automatico, senza alcun click. Fa tutto da solo. Ovviamente, anche quando perdiamo il segnale, e durante questo viaggio è successo spesso, perché abbiamo fatto una strada nel Cilento bellissima, anzi più di una strada bellissime, e queste strade bellissime, con dei tornanti consecutivi, uno dietro l'altro, pendenze abbastanza ripide, e quindi il gruppo per forza si divideva. Io ero in collegamento colchio di fila con Vanni, che ringrazio e saluto, e ogni tanto si sganciava il segnale, perché il gruppo si era allungato molto, molti tornanti in mezzo, dopo un po', senza nessun click, senza nessun problema, ma con una rapidità pazzesca, si ricollegava in automatico. Tra l'altro, per quanto mi riguarda io come capofila, avere, tra virgolette, la responsabilità di portarmi dietro il gruppo, questa cosa mi era molto comoda, perché, ovviamente, tra i tornanti, ognuno ha il suo passo. La strada era quella, non c'era pericolo di perdersi, però, quando si sganciava il segnale, l'interfono mi dava un segnale, mi dava un avviso, mi diceva interfono scollegato. Questo mi dava un campanello d'allarme, rallentavo, in maniera tale da far ricompattare il gruppo, senza dovermi fermare, o addirittura girare, durante la marcia, io semplicemente rallentavo, rallentavo dopo un po', dopo vari segnali acustici, mi diceva interfono ricollegato, guardavo dallo specchietto, e sbucavano dal tornante. Quindi, ho trovato questa funzione comoda per il capogruppo, che effettivamente si allontanano, magari durante una serie di curve, con questo sistema, che non è ovviamente studiato per quello, però ho trovato comodo questa funzione. Scusate, ma c'è una mosca, credo che sia una mosca. Qualità dell'audio migliorata. Io questa cosa l'ho notata molto nella voce dell'altro casco. Cioè, quando Vanni mi parlava, io sentivo una voce più calda, una voce più naturale, meno metallica, che ho apprezzato, è piacevole, non ti dà magari quel fastidio, quella voce stridula, o meccanica, metallica, che a volte ci succede in alcuni interfono. Questo, devo dire, che è stato come avere un paio di cuffie, quindi un interfono normale del telefonino, quindi con questa voce più calda, più naturale. E i P67. Qua voglio fare una precisazione. Durante un vecchio viaggio l'anno scorso, mi ero dimenticato il cavetto originale del Fodsport, quello vecchio. Quando sono andato a caricarlo, il cavo USB-C normale del telefonino non entrava. All'inizio io ho pensato fosse un difetto, ho detto, ma guarda, adesso dobbiamo per forza avere il cavo originale. In realtà c'è un motivo, e ci sono arrivato, quando l'ho visto anche su questo interfono. Essendo i P67, il tappo che chiude il cavetto, che chiude l'innesto del cavetto, è di gomma morbida, è molto profondo, cioè l'innesto è molto profondo, quindi non tutti i cavi sono compatibili, non per l'USB-C, che è quello uguale per tutti, ma per il pezzettino di plastica esterno. Praticamente è molto sottile quello originale, ci permette di andare in profondità nel suo spazio. Qua c'è il tappino che vi dicevo, non è facile da togliere, quindi non si può togliere con il vento, con le vibrazioni, con un rametto, è in profondità, quindi deve essere un cavetto sottile. Quello di Fodsport ovviamente è fatto apposta, quindi se viaggiate non date per scontato che il cavetto del telefonino lo possa caricare. Io ho dovuto durante quel viaggio limare col coltellino la parte esterna di plastica del cavetto per farlo entrare, quindi ho risolto comunque, però adesso mi porto sempre il suo cavetto originale, che tra l'altro è un cavetto molto corto e ci mette veramente pochissimo a caricarsi al 100%, il tempo di una cena sostanzialmente si ricarica al 100%. Riduzione del rumore migliorata, io non ho mai sentito frusci, vento, no, sento solo la voce cristallina, quando mi chiamano faccio sempre la solita prova, ma secondo te dove sono? E ovviamente mi dicono, non lo so, sei a casa? No, sono in moto e sto anche andando magari a velocità sostenuta, quindi riduzione del rumore sia in entrata che in uscita, perfetta. Ascolto della musica e della navigazione in contemporanea, l'ho già detto, audio multitasking, condivisione della musica, posso condividere con il passeggero o con l'altro interfono la musica, radio FM con memoria, non tutti ce l'hanno, io ancora non l'ho provata, però c'è la radio FM con le memorie, è compatibile con il 90% dei sistemi di assistenti vocali, quindi con i più famosi, basta un click e hai comandi vocali con i nostri sistemi. Io mi sono assegnato tutti questi appunti, ma ovviamente mi starò sicuramente dimenticando qualche cosa, una cosa che dimentico sempre di dire a inizio video, costa la metà rispetto ai marchi più blasonati, e in più c'è il 15% di sconto con il codice moto 2024 sul sito ufficiale fodsport.com slash it comunque trovate tutto questo in descrizione. Quindi voto finale, non voglio dare un voto perché è assolutamente personale, io l'ho provato, tutti questi punti che ho elencato, li ho provati più o meno tutti, sono veritieri, funzionano, che punto negativo posso dare? Sinceramente non lo so, il punto negativo io lo do al mio smartphone, perché con l'assistente vocale si collega l'assistente vocale Android e non a Google, quindi parliamo di Bixby che non ho mai configurato e non sto riuscendo a parlare con Google tramite l'interfono, ma questo è un problema del mio smartphone e non dell'interfono, lui si collega con quello che abbiamo predisposto sul telefono, quindi non è un punto negativo, ah un punto a favore invece è il design, questo design a me piace molto, il vecchio interfono gli avevo mandato un messaggio dicendo è molto bello, però un po' ruvido, un po' di tasti troppo esposti, comodissimi da trovare con il casco, però ad alcuni caschi un po' più rumorosi che è capitato nel gruppo del viaggio dell'MTA, il fruscio si sente, nel mio casco non si sentiva il fruscio, però avevo immaginato che in effetti questo fruscio poteva anche sentirsi alle alte velocità, l'hanno fatto molto affusolato, hanno messo questa rotellina che io reputo comodissima, l'avevo già provato con un vecchio interfono, due bottoni a tatto molto separati quindi lontani tra di loro non possiamo sbagliare ma sono molto pronunciati e invisibili nel design e la rotellina ha il suo bottone che io premo con tutta la mano quindi non vado a cercarlo ma vado a premere anche quando vado a alzare abbassare il volume non sto con la mano a cercare questa rotellina con le dita ma lo faccio direttamente col palmo delle mani quindi con un guanto magari invernale un po' più spesso che abbiamo difficoltà a tastare questo qua è veramente comodo ok è compatibile con tutti i caschi all'interno della scatola ci danno tutti i sistemi sia adesivi che a clip microfono da casco integrale microfono con l'asticella per i caschi jet tutti hanno la spugna antivento si montano come tutti gli interfono quindi sono semplicissimi io questo qui l'ho montato con l'adesivo che tra l'altro è anche ottimo perché questo casco qui questa parte dove si attacca l'interfono è scavata a questa piega io non l'ho attaccato per niente bene ma proprio per niente e ormai sì l'ho provato per una settimana ma ce l'ho attaccato da circa un mese il test è vero è durato una settimana però in effetti io è più di un mese che lo sto provando questo interfono e questo sistema è veramente eccezionale questo adesivo che danno è eccezionale c'è anche il sistema clip adesso cado dalla panchina che è una panchina autocostruita ok fatemi domande se posso vi rispondo ovviamente sul sito c'è la guida sia in lingua originale che in tutte le lingue c'è anche l'italiano la guida originale la guida che non ho qui il libretto di istruzioni nella scatola è in tre lingue inglese cinese e un'altra lingua che non so che lingua sia ma è tutta disegnata c'è soltanto il titolino in inglese che volume on volume off anzi volume out volume in power on power off pairing queste sono le parole scritte in inglese per il resto è tutto disegnato con dei disegni facilissimi quindi la guida va bene anche quella cartaccia se no si va sul sito selezioniamo l'interphone e ci scarichiamo la guida in italiano che io ce l'ho sul cellulare ok detto questo credo di aver finito se ci sono domande a cui solo risposta vi rispondo altrimenti vi dico ragazzi guardate sul sito però nelle prove che ho fatto bene o male cercherò di rispondere a tutte le prove e a tutte le domande qualora ci fossero domande da fare vi aspetto nei commenti gas brillante grazie per essere arrivati fino a questo punto del video e ricordatevi il codice sconto in descrizione ciao prova 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 grazie a tutti